Un posto al sole, anticipazioni, Nunzio e Alice muove gravi accuse contro di lui. Sono stati svelati alcuni dettagli della trama drammatica di Un posto al sole, che vedrà protagonisti Nunzio e Alice a gennaio. Gli elementi che sono stati forniti finora permettono di avere un quadro abbastanza chiaro della vicenda che accompagnerà i protagonisti nelle prossime puntate. Da quanto trappelato finora, i due Nunzio e Alice avranno un duro scontro e le conseguenze saranno piuttosto serie. Nunzio ammetterà di aver esagerato, ma Alice andrà ben oltre muovendo delle accuse molto gravi. Ma di che tipo? E cosa succederà esattamente? A seguire verrà analizzata questa trama per cercare di capirne di più. Nelle puntate di inizio 2023 verrà approfondito il triangolo tra Nunzio, Vladimir Randazzo, Chiara, Alessandra Masi, e Alice, Fabiola Balestriere. I toni, almeno inizialmente, sono stati leggeri, ma la trama presto virerà verso il dramma. Tutto avrà inizio quando Chiara deciderà di lasciare Napoli dando a Nunzio una sorta di benedizione per una nuova relazione. Facile ipotizzare che la giovane Petrone capirà cosa è accaduto e di conseguenza decida di lasciare il suo storico fidanzato. Nunzio, però, non si darà per vinto. Ma che ruolo avrà Alice in questa vicenda? Dopo la partenza di Chiara, Alice penserà di avere la strada spianata verso il cuore di Nunzio. Ma le cose non andranno esattamente così e da questo punto in poi la narrazione prenderà una piega totalmente diversa. Le anticipazioni rivelano che la nipote di Marina prenderà una decisione drastica che metterà in ansia sua nonna. La ragazza deciderà forse di abbandonare gli studi e la sua vita londinese per restare a Napoli? Non è chiaro. Ma sta di fatto che lei e Nunzio avranno un duro confronto in merito al loro rapporto. Il dramma si consumerà nella puntata di venerdì 6 gennaio, in quest'occasione i due ragazzi avranno un duro confronto e voleranno parole grosse. Evidentemente accadrà anche altro dal momento che lo stesso Nunzio ammetterà di avere esagerato. A quanto pare gli spettatori non vedranno interamente cos'è successo, ma potranno ascoltare le differenti versioni di Nunzio e Alice. Da quanto trappelato quest'ultima muoverà accuse piuttosto gravi verso il figlio di Franco. Non è chiaro cosa affermerà la giovane Pergolesi, ma la questione dovrebbe essere piuttosto seria. Dal momento che si parla di tribunali, sarà questo l'incipit che porterà Elena, Valentina Pace, a volare a Napoli. E si assisterà così allo scontro che vedrà la famiglia di Nunzio da un lato e quella di Alice dall'altro. Alice accuserà Nunzio di averla aggredito o violentata? Non è ancora chiaro, ma questa trama promette di essere molto drammatica e avvincente. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.